Ciao Vittorio, Vittorio Bianchi, Deus Ex Machina di Videocel e sono qui perché voglio sapere cosa porterai il prossimo weekend al Milano ai Fidelity all'Hotel Melian, perché so che hai preso una sala e hai un impianto con una chicca, anzi un paio di chicche interessanti ma soprattutto una che poi è nel titolo di questo video quindi già saprete dove andiamo a parare. Raccontami un po' cosa porterai? Allora, un impianto sicuramente particolare, originale e un po' fuori dagli schemi dell'iFidelity, dell'audiofilia classica, quindi un impianto parto dall'alto e molto rapidamente ti dico tutti i componenti, poi arriviamo alla chicca in fondo finale. Trinnov, quindi la L32 di Trinnov, pre-processore audio-video che viene prestato al mondo due canali in questo caso, visto che sarà un impianto stereofonico assolutamente, di cui andremo utilizzare la componente streaming e la componente di correzione acustica ambientale, dove ovviamente è un'eccellenza assoluta. Parallelamente ci sarà un nuovo server Rune che presentiamo, un oggetto che produciamo noi, per chi non conosce che cos'è Rune, ovviamente un ecosistema per la catalogazione e la riproduzione di fasi musicali, esatto, molto bello, molto potente, sarà un server Rune fanless, quindi è molto interessante. Dal Trinnov entriamo in ASU, quindi in digitale, in un DAC Chord Dave e dal DAC passiamo direttamente di Fascia alta, sì, c'è il 9 mila euro, e dal DAC si entra in un amplificatore finale cord ultima 5, ok, e quindi la chicca vera e propria che poi sono le BW 803 di 4 che presentiamo in anteprima direi in questo momento, perché si è annunciata già qualche settimana fa, ma insomma non si trova ancora, se ne sono ancora viste, se ne sono ancora viste, e se me ne vado anche a sentire, che si stanno rodando, ma insomma mi piacerebbe ascoltarle, e quindi ci vediamo al Milano, ai Fidelity, qual è la sala tua, dove sei? Non lo so ancora, ho una sala, non me ne so, lo vedremo poi venerdì magari aspettando ai Fidelity, come video sell, ok, video sell, grazie Vittorio, presto, prego.